non vedi qua qua un brusome è scarso ma no riga boffa no no tranquilli potete fare anche la boffa ma non so no 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 prendi alle armi prima non fai chiamo prima prendi alle armi no 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 io non la faccio la box ma che cazzo fai no io lago raga io lago una città uscite raga se no facciamo tipo un pochettino di boxe un pochettino di quello che volete voi esatto 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 no le boxe non le faccio le boxe non le faccio raga perchè? prendiamo in questa si muoviamo in questa si muoviamo in questa raga porca p***na dovete uscire a rientrare simon mutali ma cosa mutali? frate io non posso entrare comunque io muoli mudo sennò rompono troppo questi due minuti bimbo muto bimbo muto oh coglione di merda 09 simon 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 non più game over ci dice bimbo e poi ci dice raga io spiego perchè sono la maglietto simon time out ciao bimbi siete due nabi bimbo muto bimbo muto bimbo muto bimbo muto io voglio stare qua bimbo muto bimbo muto bimbo muto bimbo muto calcante vittu bimbo muto Chiaramente, fortuna che sto registrando Bene raga, il video può concludersi qua Se il video vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in un prossimo video Bella raga Grazie a tutti